Innanzitutto ringrazio Bruno che mi ha chiamato, e se mi ha chiamato Bruno ringrazio il rappresentante della società Hickinson, assolutamente. Allora, non mi piace far sì che io parli, che dica determinate cose e voglia ascoltare, vorrei che fosse un confronto, perché io credo di non avere prodotto nulla, ma ho avuto la fortuna di poter lavorare con dei bravi giocatori, dei bravi ragazzi e soprattutto, ecco, lì sì invece è una cosa che ne sono orgoglioso, più che aver tirato fuori dei ragazzi o aver contribuito a far sì che loro potessero crescere, ho chiesto a Stefano di sedersi lì per un motivo, c'è anche Tambu, una delle cose che mi piace più ricordare è il fatto di aver aiutato dei ragazzi a diventare degli allenatori, e questa è la cosa che mi piace di più menzionare. Per esempio Davide Villa, che sta facendo bene in A2, era un ragazzo che io ho trovato a un corso allenatori e che avevo portato a lavorare con me, che ha lavorato con me cinque anni, poi ognuno ha le sue capacità, anzi sicuramente anche più bravo di me e quindi poi è cresciuto. Per cui se posso dire di essere orgoglioso di qualcosa, più che dei giocatori, sono orgoglioso di aver contribuito a tirar fuori qualche allenatore. E questa è una cosa che mi sono veramente felice. Allora, perché dopo il passaggio? Dopo il passaggio devo ringraziare Marco Crespi, perché Marco Crespi un giorno mi ha chiamato e mi ha detto di fare, scrivere due righe o un intervento, confrontandomi con lui e con un altro allenatore, e lui mi ha dato il titolo dopo il passaggio. E la prima cosa a cui ho pensato in quel momento subito, ero in macchina quando mi ha chiamato, subito mi è venuta in mente una risposta. Dopo il passaggio c'è il mondo. E ho detto sì, perché dopo un passaggio avvengono tante cose. Quindi vediamo, se Stefano per esempio ci confrontiamo, cosa avviene dopo un passaggio? Un passaggio che mi viene in mente può essere uno spacing, nel senso, io passo la palla per far sì che vedo qualcosa, ma quel passaggio potrebbe aprire all'interno di un gioco un qualcosa che i membri della squadra sanno e si dovranno muovere di conseguenza al passaggio di farlo. Se chiede a te Bruno, un taglio. Giglietti? Dopo un passaggio c'è un tiro. Qualcun altro? Ambo? Dopo un passaggio un tiro. Un uno contro uno. Attacco, quindi una penetrazione. Un blocco. Vedete che se cominciamo a parlare viene fuori veramente il mondo. Veramente il mondo. Allora faccio una piccola premessa. Prima di tutto Stefano o chi ha lavorato con me, che è un bus sa che a me piace una pallacanestra fatta di tanti passaggi. Non mi piace tanti palleggi. L'abuso del palleggio è una cosa che non sopporto. Trovo divertente da spettatore e trovo divertente per i giocatori fare una pallacanestro fatta di tanti passaggi e di giocate senza palla. Quindi di assist. E credo che soprattutto a livello giovanile fare una pallacanestro di passaggio coinvolga tutti gli elementi della squadra e tutti gli elementi della squadra si possono sentire gratificati. gratificati per fare un assist, gratificati per fare un canestro, gratificati per fare un tiro, gratificati per prendere un vantaggio. Ma secondo me giocare di passaggi coinvolge tutti i giocatori. però la prima cosa che sinceramente a me è venuta in mente dopo il passaggio è che prima di tutto c'è un passatore e secondo c'è un ricevente. E quindi già qui ci deve essere un lavoro individuale sulla capacità di passare la palla e un lavoro individuale sulla capacità di ricevere la palla. Perché è un buon passaggio, per quello che penso io, è un buon passaggio se anche chi deve ricevere la palla è nel posto giusto, al momento giusto. Quindi se sa giocare uno contro uno senza palla è una cosa, se non sa giocare uno contro uno senza palla è un problema. Quindi già la prima differenza che ho fatto è questa qua. E credo, oh Maurizio, e credo che per esempio nella pallacanestro di oggi che atletismo e fisicità la fanno da padrona. Secondo me nella pallacanestro di oggi atletismo e fisicità la fanno molto da padrona. E con i corpi che ci sono oggi gli spazi su un campo di 28 per 15 cominciano a essere piccoli. Perché l'anno scorso, mi ricordo, o due anni fa, quando a Varese c'è stata la next gen dell'Eurolega, c'era la squadra francese che nel momento in cui difendeva e apriva le braccia non c'era spazio per nessuno. e quindi la capacità di prendere, mantenere dei vantaggi e concretizzarli attraverso delle collaborazioni è fondamentale. Ed è proprio per questo che la maggior forma di collaborazione è passaggio e ricezione. Ecco perché la prima cosa che è venuta in mente è c'è un passatore e c'è un ricevente. Per fare questo e secondo me è una cosa che va costruita con linearità e coerenza all'interno di un settore giovanile ci vuole pazienza perché è una cosa che deve iniziare da under 13 e deve proseguire fino alla fine. Spesso e volentieri sento gli allenatori e anch'io che si parla di coerenza. No? Un allenatore deve essere coerente. Ultimamente credo che la coerenza si confonda con la non capacità di saper rimodulare un intervento. Quindi secondo me cosa vuol dire essere coerente? Allora coerente è coerenza è che io voglio arrivare a un obiettivo e il mio obiettivo è arrivare a costruire dei giocatori che sappiano passare la palla la sappiano ricevere e quindi sappiano giocare uno contro uno senza palla e so che è un percorso lungo però per arrivare a quello devo anche essere capace a fare dei giusti interventi a poter rimodulare quelli che sono i miei interventi in base anche alle categorie e in base anche al punto di partenza da dove parto con i giocatori. Ok? Però è un lavoro molto molto lungo quindi da questo parto con un messaggio che chi ha lavorato, ha collaborato con me in settore giovanile lo sa ed è un messaggio che continua a dire ed è un messaggio ed è un linguaggio che da subito i ragazzi anche per dire esordienti devono imparare a sentire ed è un processo un processo che guardo, scelgo, faccio ok? Io credo che se io continuo a dire ai giocatori guardo, scelgo, faccio guardo, scelgo, faccio prima o poi è un qualcosa che entra nella testa ed è un processo che non può essere modificato e deve essere per forza in questo ordine perché se io scelgo senza guardare è molto probabile che la mia scelta sia una scelta sbagliata ok? Può anche succedere una scelta giusta però se andiamo a vedere sul numero dei casi è molto più probabile che se scelgo senza guardare commetto un errore a maggior ragione se faccio senza aver scelto senza aver guardare aver guardato ok? Quindi il guardare il guardare è la prima cosa che i ragazzi devono imparare a fare ok? Il guardare ma guardare che cosa? Per esempio io dico ai ragazzi che alleno spesso si sente dire guarda il canestro no? Io non sono d'accordo su questa cosa qua magari voi lo fate non so e avrete le vostre motivazioni io mi sono confrontato con altri allenatori a un certo punto ho riflettuto e io penso che dal canestro non arrivi nessun aiuto perché dal canestro non c'è nessuno che sbuca fuori e viene a fare un aiuto difensivo sopra il canestro non c'è nessun mio compagno il canestro so che è lì ma i miei compagni e i miei avversari sono distribuiti sul campo e se io do ai miei ragazzi fin da subito under 13 abituarli a guardare negli angoli io credo che noi non so mi può confermare dal punto di vista medico se io guardo gli angoli il mio campo visivo mi permette di vedere tutto quello che è la zona offensiva e quindi dico guardare gli angoli per aprire il campo scelta la scelta devo avere gli strumenti per poter scegliere quali strumenti e quindi ecco che qua arriva tutto il lavoro che può essere il lavoro individuale di miglioramento individuale del giocatore per avere gli strumenti ma non è solo la scelta e la capacità individuale con la palla è anche la scelta di sapersi muovere senza palla e di conseguenza poi una volta scelto lo devo fare e qui subentra il come farlo e siccome la palacanestra diventa sempre più veloce una volta quando giocava Claudio forse si giocava sui 30 secondi forse anche di più adesso la maggior parte delle azioni credo che si concludano sotto i 14 o al massimo i 14 secondi un po' per regolamento un po' perché ormai l'indole di gioco è molto atletismo e quindi si va a sviluppare questo per cui questo processo secondo me è imprescindibile ok l'altra cosa è che sempre riflettendo mentre mettevo giù questa cosa per Marco dicevo sì ma poi la palacanestro è un gioco di spazio e tempo no? quindi quando guardo quando scelgo e quando faccio ed è qui che secondo me è la chiave questo processo che deve essere sempre portato avanti con coerenza con i giocatori man mano che crescono e anche a livello senior fa sì che un giocatore possa arrivare a giocare a più alto medio o basso livello nel senso che non siamo noi allenatori perché gli insegniamo due fondamentali che gli permettiamo di arrivare ad alto livello ma dobbiamo convincere loro che se vogliono arrivare ad alto livello devono saper fare le cose prima con un palleggio in meno con un passaggio in più con un passo in più con un metro in più oppure con un centimetro in meno ma di conseguenza devono essere molto più veloci Stefano ha avuto la fortuna di visitare alto livello anche internazionale no? e penso che non possa dire la differenza oppure qualcuno che ha lavorato con l'A2 tra A2 e A1 la differenza non è la tecnica o la tattica la differenza è la rapidità nelle scelte dei giocatori cioè in A1 allora diciamo in B interregionale ti distrai un secondo te la cadi in B nazionale ti distrai otto decimi te la cadi in A2 te la cadi in A1 cioè se distrai anche solo un decimo di secondo sei fottuto sei fottuto quindi addirittura in A1 o per non dire in Eurolega devi farle ancora prima le cose per cui devo convincere loro che questo processo guardo scelgo faccio più siete bravi a guardare prima sarete bravi a scegliere prima e sarete bravi a fare prima e più avrete questa capacità di anticipare quello che può avvenire in campo quella che viene chiamata capacità di anticipazione e più voi andrete ad alto livello quindi se arriverete ad alto livello oppure no non dipende tanto da chi vi allena o da chi vi è allenato ma dipende molto da come voi farete le cose di sicuro è come noi porteremo loro a fare le cose per cui inserisco un'altra riflessione il titolo era dopo il passaggio giusto bene e ho detto la prima risposta che è venuta in mente è il mondo c'è il mondo dopo il passaggio arrivato a questo punto della mia riflessione ho detto no beh guarda dopo il passaggio è tardi quindi ho modificato la mia risposta dopo il passaggio è tardi perché se io inizio a fare qualcosa dopo il passaggio è già finito cioè la difesa mi ha già tolto lo spazio soprattutto ad alto livello e quindi devo sviluppare nei miei giocatori che mentre ricevo guardo mentre guardo scelgo mentre scelgo faccio quindi il famoso concetto del mentre ok e per come sta diventando la palacanestro secondo me anche il mentre tra un po' diventerà tardi perché ripeto atletismo e capacità di lettore dei giocatori sta aumentando sempre di più quindi non so se vi capita ma penso che nelle varie discussioni è successo no Bruno io e te che abbiamo una certa età è una volta i giocatori erano meglio siamo sicuri? erano meglio a fare una velocità molto più bassa ok benissimo e qui faccio un esempio allora anche tu Maurizio penso che all'inizio la famosa triplice minaccia giusto? no? la famosa triplice minaccia cioè ricevo la palla triplice minaccia cioè ad oggi se ti metti in triplice minaccia l'ha già presa e sono già andato a schiacciare dall'altra parte sei morto sei morto giusto benissimo quindi non è più vero che il giocatore deve arrivare a ricevere e mettere a posto i piedi? è vero sì o è vero no? nì secondo me il giocatore deve arrivare con i piedi pronti deve arrivare con i piedi pronti e quindi per arrivare con i piedi pronti deve muoversi prima e allo stesso tempo deve arrivare con i piedi pronti leggendo prima lo spazio che avrà e quindi diventa ripeto sempre tutto molto più veloce per cui una cosa che poi dopo lavoreremo per esempio è che io voglio e non è facile non è facile per esempio che quando i miei giocatori ricevono la palla abbiano già lo sguardo dall'altra parte in questo senso nel senso che arriva il passaggio da questo lato cioè mentre prendono la palla loro già devono guardare dall'altro perché mentre guardano dall'altro vedono anche lo stesso lato da dove arriva la palla no perché un giocatore che me la passa cosa può fare giocare un dai vai e quindi devo prendere passargliela ma allo stesso tempo se la palla arriva da questo lato la difesa dove sarà su questo lato e quindi devo essere bravo a colpirla immediatamente dall'altra parte ok per cui portare i ragazzi a mentre ricevono la palla a guardare dall'altra parte non è così semplice ma è una cosa su cui bisogna continuare ad andare poi chi riceve la palla abbiamo detto prima voi avete tirato fuori tiro quindi chi riceve la palla deve leggere lo spazio se ha il tiro no deve leggere lo spazio se fare chi è che ha parlato prima di attaccare cos'ha quindi di fare una penetrazione chi ha detto di fare un taglio chi ha detto di fare un blocco e subentrano altre collaborazioni a sua volta chi passa la palla cosa diventa cioè io che ho passato la palla cosa divento divento di nuovo subito un giocatore senza palla e che devo subito giocare uno contro uno e uno contro uno non significa che devo per forza fare un taglio significa che devo leggere uno spazio devo poter magari andare da un'altra parte a fare un blocco devo anche semplicemente spostarmi per creare uno spazio per il mio compagno o allo stesso tempo devo anche stare fermo perché a volte passo la palla sono fermo ricevo di nuovo il ritorno e tiro o riattacco quindi quindi anche lì la capacità di essere sempre pronti altro concetto che cerco di trasmettere è una volta dicevo fatta una cosa ne devi fare un'altra no? lo ricordiste? adesso non dico più fatta una cosa ne devi fare un'altra ma mentre stai finendo una cosa ne devi fare un'altra per il famoso concetto di prima quindi anch'io mi sono ho cercato di migliorarmi e di adeguarmi a quello che è la palacanestro è chiaro che tutto questo tutto questo deve essere poi considerato sempre in un contesto di 5 contro 5 e quindi lì sì che subentra una coerenza di allenatore è che nel mio metodo di insegnamento devo dire ai giocatori sempre una stessa cosa in modo tale che loro pian pianino rendano come si dice sempre più veloce il processo ok ma che riconoscano degli spazi perché se io li faccio poi muovere a caso ok diventa complicato però attenzione attenzione un'altra cosa cosa che mi hanno insegnato ultimamente e che sto cercando di sforzarmi a fare e c'è una foto che ha pubblicato un mio giocatore dell'ultima partita dove la mia squadra sta attaccando in un senso e io sto camminando nell'altro no è quella di accettare l'errore del giocatore che è una cosa non non facile e quindi succede che io posso dargli tutti gli strumenti tutto quel che volete ma a un certo punto in campo può succedere che una posizione si sovrappone che due giocatori fanno un taglio nella stessa situazione quindi devo allenare situazioni prestabilite o devo dare la capacità ai giocatori anche in quella situazione di risolvere il problema devo dare la possibilità ai giocatori di risolvere il problema sempre attraverso lo stesso processo guardo scelgo e faccio quindi mi rendo conto che sto andando in una posizione dove sta andando il mio compagno io devo poter cambiare devo capire chi ha una precedenza in una situazione di gioco senza parla penso che per fare tutto questo sia un processo lungo e complicato molto lungo e complicato ci vuole molta pazienza ci vuole molta pazienza bisogna martellare su questo perché poi io credo e questo è un pensiero che io ho secondo me cosa dobbiamo tirare fuori noi da un settore giovanile secondo me dobbiamo tirare fuori i giocatori non possiamo pensare di tirar fuori i giocatori pronti perché secondo me è utopia pensare di tirar fuori i giocatori pronti che possano giocare a livello senior secondo me dobbiamo tirare fuori i giocatori che conoscano il più possibile del gioco della palacanestro e che poi dobbiamo sperare che a livello senior abbiano una continuità di essere allenati e che a livello senior poi migliorino le loro capacità purtroppo il nostro sistema secondo me non permette tanto questo tant'è vero che i nostri giocatori esplodono solitamente intorno ai 25 24 25 26 anni gli ultimi esempi dai vari melli da Tome come si chiama Fontecchio sono esplosi dopo però un conto ed esplode cioè esplodere vuol dire che tu dentro hai qualcosa quindi noi dobbiamo mettere dei semi giusti nei nostri giocatori e che poi pian pianino loro poi tireranno fuori nel momento opportuno e nel momento in cui avranno l'opportunità non so se avete domande su questo aspetto qua se ho chiarito cosa intendo dopo il passaggio che non è più dopo il passaggio ma mentre passo la parla non so se avete domande dubbi o se ci possiamo confrontare su qualcosa se le avete meglio perché così possiamo un attimino confrontarci che poi dopo passo alla parte pratica di come cerco di sviluppare questa cosa uno degli articoli su Coach Magazine di Luca Banchi che gli han chiesto qual è uno dei fondamentali cioè se sono ancora importanti i fondamentali il giorno d'oggi lui ha detto assolutamente sì ma lui ha detto secondo me il fondamentale di oggi è il gioco cioè il fondamentale di oggi è il gioco cioè devono sapere giocare su questa cosa qua di fare poco è una cosa che mi sono confrontato con Marco Ramondino allo scorso e lui per esempio diceva diceva guarda non è fare tante cose o poche cose il concetto è che se fai una cosa sola però quella la devi far bene se fai tante cose può anche essere che non le facciano bene no ci può stare e porterai a farle bene il più possibile però se fai una cosa quindi non c'è un metodo giusto o sbagliato però per esempio da lì parto su che cosa dare loro di strumenti per arrivare a fare quello quindi ha detto il confronto no buono mettiamo fuori un argomento allora ultimamente Schiavi sta facendo delle riunioni tecniche anche lui esatto però c'è stato un intervento che magari avete già visto di Mario Fioretti no che gli hanno detto che cos'è importante per la difesa e lui ha detto tre cose due sono tecniche e una non è tecnica perché ha detto la prima cosa è grande pressione sulla palla la seconda cosa è posizionamento difensivo la terza cosa fattore Messina e quello non possiamo sicuramente insegnarlo però possiamo insegnare pressione sulla palla e posizionamento difensivo e anche su questo no sento gli dicono anticipo 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 e io questa cosa qua la contesto perché non è sempre anticipo non è sempre anticipo cioè non devo sempre anticipare no e quindi cambiano questo ma perché questo perché poi nel momento in cui vado a sviluppare il gioco dopo il passaggio o mentre passo la palla io devo anche saper leggere cosa fa una difesa e parto sempre dallo stesso processo devo guardare ok quindi questo è un po' è un po' quello che penso quindi per arrivare a fare quello che fa Kaya io a loro ho bisogno di dare degli strumenti come abbiamo detto prima mettere dei semi che poi lo tireranno fuori perché poi per attaccare quella difesa lì allo stesso tempo gli altri allenatori devono avere degli strumenti che i giocatori sappiano muoversi e giocare e e lì mancano degli strumenti molto probabilmente mancano degli strumenti ok allora se non ci sono dubbi io partirei sulla parte pratica dei lavori che io faccio in campo per cercare di sviluppare queste capacità avrò bisogno poi magari di due che mi facciano da assistenti e che lavorano su determinate cose ci siamo ok andiamo in campo veloci facciamo una fila in mezzo con la palla e un'altra fila in angolo cioè scusate in mezzo due palloni a testa ok e in angolo senza palla metà 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 siamo metà metà qua siamo in cinque lì siete in benissimo allora lavoro in questo modo con la palla interna col braccio interno tengo la palla sotto braccio vado in palleggio forte verso di lui ok veloce vieni verso di me prendi la palla passaggio consegnato io con questa la spingo con la mano interna la prendo subito mano esterna palleggio arresto e tiro tu invece prendi subito la palla con la mano esterna ok devi leggere quello che fa lui perché vieni qua quindi vieni in palleggio guardi quello che fa lui quando lui ha tirato e ha preso il suo rimbalzo puoi fare un cambio mano e attaccare e andare al ferro a tirare ok ci siamo con la massima intensità andiamo andiamo via andiamo via partire andiamo più veloci andiamo 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 benissimo stop bene adesso cominciamo a mettere a posto delle cose allora innanzitutto mentre vado in palleggio verso di lui guardo l'angolo opposto ok quindi mentre vado in palleggio guardo l'angolo opposto quando lui sta per arrivare vedo lui bene il passaggio consegnato spingo bene la palla bene arresto sinistro destro ok arresto e tiro qua io devo spingere la palla forte guardando l'angolo opposto quindi mentre guardo l'angolo opposto vedo quello che fa lui posso arrivare anche qui in palleggio quando l'aria è libera cambio e attacco e vado forte a canestro altra cosa siccome vedo tentativi di tiri ok cioè tiri a caso o meno l'obiettivo è far canestro in questo sport andiamo vai accelera accelera andiamo guardalo lì dai pronto parti 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 andiamo tiri la palla guarda andiamo via via vieni guardalo via attacca forte andiamo guarda sempre l'angolo andiamo via forte accelera 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 guarda dentro lui via battimi andiamo via andiamo via fuori guarda no 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 stop guarda l'angolo guarda l'angolo guarda l'angolo andiamo guarda bene adesso gliela dai via accelera bene guarda dentro andiamo guarda no no stop stop ancora ancora gli stessi allora vi dovete sforzare vi dovete sforzare di non guardare la palla e se guardate la palla è un problema ok quindi io prendo la palla forte attacco e io guardo l'angolo ok e guardo quello che succede chiaro per esempio quando poi a livello più grande giocano pick and roll giusto attaccano pick and roll solitamente se io attacco vuol dire che c'è una difesa contenitiva se c'è una difesa contenitiva il vantaggio dove lo trovo dietro maggior parte delle volte quindi la capacità di palleggiare guardando dall'altra parte mi permette poi una volta diventato giocatore voluto di saper fare queste cose quindi sforzatevi palleggi di là guardi l'angolo opposto vai attacchi veloce andiamo andiamo via cominciamo a aumentare l'intensità andiamo vai aspetta aspetta no l'altro palleggio andiamo via 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 aspetta guarda con la mano sinistra attacca eric erico bravo benissimo stop stop benissimo adesso aggiungiamo una terza fila lì senza palla ok benissimo tu fai la stessa cosa ok tieni il braccio la palla sotto il braccio lì benissimo vado bene attacco benissimo e tu vai per attaccare dentro l'area adesso cioè nicolò vieni nicolò a un certo punto ti chiude lo spazio tu fai per attaccare ti chiude lo spazio ok quindi l'aria è chiusa io guardando devo cambiare mano e scappare e venire qua fuori ok perché nel frattempo tu vai a giocare con lui guardando di qua vedi però vai a giocare no 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 sei arrivato in mezzo tu vai per muoverti e hai due scelte ok o sprinti con dieci dita ok quindi sprint verso la palla e se vedi questo dieci dita gliela devi passare e attacco ok se invece arrivi con i pugni vuol dire che sei anticipato ok giochi un backdoor e dai la palla mentre tu giochi con lui e mentre lui esce in palleggio tu devi uscire in palleggio e guardare il gioco di qua quello che fanno ok mentre tu giochi con lui devi andare poi a giocare con lui e hai due modi o mostri dieci dita subito passaggio strappo e attacco oppure vai su pugno anticipato backdoor e tu devi guardare dove passargli la palla ci siamo e cerchiamo di farlo con grande intensità andiamo via fritta vai a giocare con lui bene via backdoor bene gioca subito diamo via via veloce via veloce diamo guarda bene via subito benissimo stop bene bravi bravi allora proviamo a farlo a velocità superiori quindi nicolò chi è l'altro assistente bravo vieni qua allora adesso decidi o gli fai ricevere la palla e ti battono uno contro uno o anticipi forte ok e lo lo tagliate tu chiudi lo spazio e lo insegui ti esce in palleggio ok lavorare bene su questa cosa qua scappo esco e subito devo fronteggiare per guardare il campo e vedo che cosa succede ci siamo proviamo a farlo aumentando l'intensità andiamo via andiamo palleggi forte andiamo via via spritta 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 vai a giocare con lui andiamo via via veloce di qua andiamo lì bravo via via andiamo via spritta 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 guarda che arriva lì anticipato via subito bene andiamo via veloci via veloce spritta 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 stop stop hai ritardato il tempo stai palleggiando con la mano sinistra lui arriva perché ti sposti la palla di qua per passarla con la mano destra arrivi anche dal palleggio via passaggio andiamo sospita sperta retian stesso errore andiamo Stai largo stai largo stai largo stai largo stai là andiamo bravo via via bravo bravissimo andiamo via andiamo via sp Bien spinta spinta stai largo impara a giocare largo andiamo vai a giocare di lui sei bravo bravo andiamo, via, guarda subito, vieni, guarda subito, via subito a giocare di là, anticipato, bravo, andiamo, finta, finta lì, anticipato, bravo, ok, stop, benissimo, bravi, bravissimo, bravi, adesso, complichiamo in questo, vai a giocare con lui, benissimo, ok, vieni in mezzo, veloce, stai lì, impariamo, ecco, un'altra cosa, ragazzi, questa è zona di attacco, quella è zona di attacco, l'angolo è zona di attacco, quindi impariamo a usare il campo tutto, in orizzontale, in orizzontale e in verticale, ok, quindi impariamo a giocare larghi, immaginiamo di giocare sulla linea dei quattro punti, non dei tre punti, ok, adesso, se lui riceve la palla, puoi giocare dai e vai, e quindi tu sei davanti al difensore, devi giocare dai e vai, se tu giochi a quattro con lui dai e vai, devi subito andare tu a giocare con lui, chiaro, quindi mentre passi la palla, devi pensare di andare a giocare con lui, ci siamo? Benissimo, prima soluzione, ok, se c'è passaggio, se invece c'è backdoor, passaggio e io vado, andiamo, via, sprint, accella, accella, gioca a largo, bravo, lì, benissimo, via, dai veloce, sprint, attacca, andiamo, andiamo, via, via, andiamo lì, via, backdoor, bene, subito di qua, no, 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 ancora, gli hai passato la palla, devi giocare di qua quindi mentre gli passi la palla mentre gli passi la palla devi imparare a guardare di qua e vedere se è anticipato o via se è anticipato la ricevi andiamo andiamo, via passaggi andiamo, bene, scappa scappa lì, via veloce di qua andiamo bravo, guarda benissimo, benissimo ok, bene bravo, bravo, bravo adesso lo complichiamo ancora di più ci mettiamo apposto nelle file ragazzi allora vai a giocare con lui benissimo attacca deciso attacca deciso, ti chiude lo spazio devi scappare bravo e tu arrivi ok anticipato non gli dai la palla no, no, no non gli dai la palla quindi tu non ricevi da lui ma c'è un altro tuo compagno con la palla bravo vai a ricevere da lui ok gli dai la palla e tu gli hai passato la palla quindi adesso cosa fai? puoi scegliere di giocare con lui ok oppure di giocare con lui dai due modi in base a quello che fa lui la difesa la difesa si schiaccia no puoi scegliere di giocare con lui tirare la difesa ti mette pressione poi decidi di tagliare giocare con lui ok ma io taglio ma lui non mi dà la palla perché a un certo punto decidi di giocare uno contro uno benissimo allora io devo subito giocare con lui uscire boom e tu giochi con me hai ricevuto puoi tagliare oppure se io penetro non devi tornare indietro ma dovrai adeguare la tua posizione ci siamo? andiamo allora quello che vi chiedo adesso è ognuno di voi che abbia la palla o se è senza palla deve prendere un'iniziativa chiaro? andiamo vai accelera lì via va bene va bene bravo va bene bravissima andiamo spinta 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 stai facendo la stessa cosa di prima andiamo non dagliela sul taglio non dagliela non dagliela non dagliela bravo non dagliela andiamo bravo bravo vai a giocare con lui adesso bravo andiamo via bravo leggi andiamo guarda guarda bravo guarda benissimo bravi andiamo bravo andiamo andiamo non buttiamo via i palloni andiamo spinta spinta bene benissimo bravi bravi allora quello che vi chiedo è questo adesso puliamo il nostro gioco in questo senso prima cosa giocare sulla linea dei quattro punti non voglio vedere gente che gioca ok giochiamo sulla linea dei quattro punti prima cosa seconda cosa evitiamo cambi di mano inutili quindi arrivo e devo aumentare la forza del palleggio devo picchiare la palla ok sto qua non c'è problema se vado cambio mano è perché vado dall'altra parte è inutile arrivare qua fare queste cose qua che poi succede che la palla la perdo quindi tenere palleggio vivo tenere palleggio vivo ma sotto controllo con un palleggio forte se cambio mano è perché vado dall'altra parte guardando sempre di là ci siamo? andiamo via bene bravo lì guarda il tiro bravo ci sta andiamo sprinta sprinta scappa scappa forte bravo stop torno indietro torno indietro mettiti lì a giocare uno contro uno è ricevuto da lui allora tu hai passato la palla a lui e poi hai giocato con lui giusto? benissimo secondo te benissimo quindi perché tu hai fatto questo taglio? bravo perché non hai guardato allora rifacciamo guarda guarda e guardiamo dove è spazio quindi vi obbligo guardate guardate ok? allora intensità non è frenesia intensità significa che se faccio uno sprint lo faccio alla massima velocità ok? ma prendetevi il tempo per guardare andiamo no rifai dove stai guardando andiamo quattro punti linea dei quattro punti andiamo quattro punti stare largo vieni largo vieni largo vieni largo bravo benissimo gioco con lui adesso bene andiamo stai largo stai largo benissimo stop ecco cos'è che succede? fermi il palleggio non hai una linea di passaggio e ci incartiamo allora se chiudo il palleggio è perché è una linea di passaggio non tengo il palleggio vivo ancora andiamo tieni bravo guarda benissimo subito gioca con lui bene bravo bravo bene stop adesso complichiamo ancora un po' di più allora se lui viene in mezzo all'area ok? e il tuo compagno viene sopra e ti fa vedere dieci dita no no mentre tu stai andando di là devi vedere questa mia palla devi vedere questo vieni dieci dita perché subito devi imparare a fare questo passaggio ok? allo stesso tempo io attacco tu stai rivenendo su non hai ricevuto da me ok? quindi dove andrai? puoi tagliare andare in post basso bravo oppure puoi andare su ricevere da lui tu subito puoi giocare uno contro uno intanto sono scappato ok? vedo che giocate voi due gliel'hai passata no? gliel'hai passata bene adesso la devo passare a te ok? guardare guardare ci siamo? andiamo bravo via vai aspetali andiamo quattro punti linea dei quattro punti andiamo linea dei quattro punti bene bene linea dei quattro punti bravo scappa bravo gioca con lui via gioca benissimo subito gioca con lui andiamo quattro punti ancora quando ti sei accorto di aver sbagliato a passare là quindi stavi guardando in quella direzione giusto? benissimo non importa guarda e guarda bene quello che succede ok? andiamo vai 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 benissimo bravo bravo andiamo via bene ok stop benissimo adesso fermatevi un attimino venite qua sedetevi lì un attimo grazie allora io per esempio faccio tanti di questi tipi di lavori ok dove poi arriva quattro dopo proviamo ok fino a che poi arriva un quattro contro quattro e poi faccio anche giocare cinque contro cinque è chiaro che più salgono no ad under quattordici devono imparare a giocare negli spazi under quindici imparare a giocare negli spazi under diciassette comincio a metterci i blocchi picca roll piuttosto che uscita no e comincio a mettere dentro queste cose qua però capite che se noi siamo abituati da under tredici a lavorare guardando no dall'altra parte guardando gli angoli vedendo il campo pian pianino pian pianino poi riescono ad arrivare a trovare delle soluzioni che anche tu non ti aspetta e vedere per esempio io ho una squadra under quattordici che non ha talento non è nulla di che assolutamente però stiamo facendo questo tipo di lavoro stiamo lavorando a insegnare i fondamentali dentro nel gioco però obbligandoli a guardare sempre sempre dall'altra parte guardare 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 e poi pian pianino lavorare e migliorare su quelle che sono i fondamentali individuali quindi poi ci sono delle sedute dove tu fai solo lavoro sul palleggio sedute dove tu fai solo lavoro sul passaggio e dopo le rimetti in un contesto di gioco domande su questa tipologia di cosa di lavoro se avete domande così da chiarire alcuni aspetti di quanto si occupa la gente guardando il palleggio è un po' di più da un po' di più dopo il passaggio a un po' di più di più ma sicuramente in particolare cosa guardare però guardando loro si deve guardare trattando la palla in una certa maniera senza la riscattiva ma perché si per esempio ci sono tre coni quattro coni intanto quattro con la palla pronti allora parto da lì è cambio di mano frontale cambio di mano frontale e attacco però aspetta cambio di mano come lo voglio arrivo e faccio un cambio di mano protetto spingendo indietro la palla spingo indietro e spingo nella nuova direzione ok spingo indietro e vado nella nuova direzione attaccando ma ogni volta io sto palleggiando in quella direzione guardo quell'angolo ok vado in quella guardo in quell'angolo attacco guardo quell'angolo ok guardo il canestro solo nel momento in cui ho raccolto la palla e vado a tirare anzi neanche quando raccolgo la palla quando proprio vado su a tirare perché anche quando ho raccolto la palla io guardando l'angolo posso anche trovare una linea di passaggio ok quindi sforzatevi di guardare sempre l'angolo opposto mai guardare la palla velocità andiamo guarda fisso dall'altra parte fisso dall'altra parte fisso dall'altra parte no 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 poi vado a tirare di là di sinistro andiamo via vado di là di sinistro gli vado di là di sinistro andiamo lì di là di sinistro andiamo guarda bene andiamo terzo tempo via cambio terzo tempo con un palleggio andiamo via cambio un palleggio e via andiamo guarda l'angolo guarda l'angolo un palleggio andiamo cambio un palleggio andiamo su su no stop stop ancora ragazzi dovete imparare a girare 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 la testa cambio direzione giro di là cambio direzione giro cambio giro cambio devo imparare a guardare subito girare andiamo via veloce andiamo gira 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 completamente la testa bene andiamo andiamo un palleggio non due palleggi cambio e via andiamo cambio e via cambio e via andiamo cambio e via benissimo adesso fermi lì tre giocatori qua senza palla parto da qui ok fuori dal campo chi non c'entra benissimo quando lui fa l'ultimo cambio di mano e attacco io sprinto ok se tira fuori dieci dita voi gli dovete passare la palla per un tiro se non tira fuori dieci dita attacco ok andiamo pronto gioco le gambe pronto andiamo guarda guarda andiamo ok stop e questo esempio fondamentale che uso per cercare di migliorare guardare intensità del palleggio poi posso mettere mettiamo un'altra fila tra i giocatori senza palla in angolo sempre uno in campo ragazzi uno solo in campo allora adesso quando lui fa il cambio di mano l'ultimo cambio di mano tagli ok tu adesso non è che puoi andare proprio in angolo perché se vai in angolo sei dietro di me e la palla non ti vede quindi ti sposti scendendo leggermente ok quindi se il vostro compagno taglia con dieci dita gli dovete dare la palla che lui deve fare appoggio se taglia con i pugni potete concludere ma allo stesso tempo se apre dieci dita lui la dovete passare fuori quindi avete due possibilità di passaggio e una possibilità di penetrazione ok testa alta andiamo via guarda sempre pronto giù con le gambe guarda andiamo lì stop ancora hai mostrato dieci dita ho sbagliato io rifai come ti chiami? eh Walter benissimo prova ad andare alla massima intensità se perdi la palla non mi interessa ok ma palleggi forti andiamo via vai testa alta testa alta andiamo testa alta lì benissimo bravo andiamo via testa alta guarda gli angoli guarda gli angoli bravo andiamo 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 bravo guarda stop 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 hai guardato il cono hai guardato il cono perché guarda gli angoli andiamo via andiamo lì via bene andiamo pronto giù con le gambe pronto giù con le gambe bravo bene ok stop è chiaro che adesso pugno ma dieci dita però hanno dei riferimenti poi dopo ci sarà la difesa la difesa schiaccia o la difesa va fuori e quindi metto non so uno degli assistenti dove sei seduto allora adesso Nicolò decide o seguire il taglio e quindi passaggio fuori ok oppure decide di andare fuori e quindi passo dentro sul taglio ci siamo andiamo via attacca guarda gli angoli guarda gli angoli bene andiamo guarda gli angoli bravo andiamo via via bravo Walter bravo Walter bravo bene ok bravi stop benissimo adesso per esempio metto un altro difensore e decidi tu decidi se andare fuori oppure star dentro l'area ok e tu decidi se andare sul taglio oppure andare a fare aiuto ok andiamo vai bene andiamo decidi se anche schiacciarti dentro Nicolò vieni benissimo bravo andiamo bravo bravissimo bene bravo ok stop e per esempio secondo me questo è lavorarsi fondamentale quindi quello dopo è una situazione di gioco che costruisco per arrivare a un 4 contro 4 questo secondo me è lavorarsi fondamentale però lavoro sempre sui fondamentali con una possibilità di lettura che sia 10 dita che sia 2 pugni che sia un difensore loro devono sempre avere l'obiettivo di guardare i compagni ok e di vedere questa situazione qua allo stesso tempo migliorano la loro capacità di palleggio poi posso fare cambio di mano in mezzo alle gambe piuttosto che cambio di mano sotto il sedere tutto quello che vuole e quindi miglioro la loro abilità poi lavoro anche sul passaggio perché lì poi magari vado a dare indicazioni più precise del tipo nel momento in cui attacco ok e lui viene ad aiutare c'è un taglio io devo passare con la mano interna schiacciato ok se invece lui viene ad aiutare e lui si schiaccia ok io devo imparare a passare con la mano interna il passaggio dall'altra parte proviamo sempre in mano interna o mano interna o mano interna dall'altra parte ci siamo? andiamo ah ancora ancora nessun problema leggi andiamo andiamo testa alta guarda gli angoli guarda gli angoli bravo andiamo via guarda gli angoli andiamo bravo Walter bravo Walter bravo ok stop benissimo e questo è uno oppure l'altra indicazione è se la passo sul taglio passaggio mano interna se la passo fuori passaggio mano sinistra chiaro? quindi se la devo passare sul taglio mano interna se la devo passare fuori mano esterna andiamo bravo bravo va bene andiamo va bene va bene bravo andiamo via bene andiamo guarda gli angoli bravo bravissimo ci siamo confusi andiamo bene ok stop sedetivi pure adesso grazie non so se ho risposto alla tua domanda esatto esatto però ricorda di quello che ho detto prima devo sapere il punto di partenza quindi da dove parto devo sapere il mio obiettivo dove arrivo e poi devo sapere modulare il mio intervento la cosa che però sono sicuro di aver mantenuto è la coerenza nel dire ai giocatori di continuare a guardare gli angoli ok perché secondo me guardando gli angoli ti apre il campo e ti dà la possibilità di vedere dove sono i tuoi giocatori dove sono i tuoi compagni io sono convinto che se Teodosic è capace mentre va da un'altra parte passare la palla in angolo è perché guarda l'angolo o no poi non tutti sono Teodosic ma se lo fa è perché molto probabilmente vede lo spazio libero ok quindi anche se sembra che stia andando in questa direzione con lo sguardo il suo occhio guarda dall'altra parte in tutto questo come vi ho detto è un percorso lungo è un percorso lungo per cui arrivare a farli giocare adesso faccio vedere una cosa perché io poi arrivo a giocare in questo modo ok quindi togliamo i coni adesso voglio quattro rossi e quattro bianchi ok allora un giocatore rosso qua con due palloni ok poi un giocatore in angolo rosso un giocatore in angolo rosso e un giocatore che parte angolo basso congiungimento con l'area rosso bianchi in difesa andiamo benissimo è un quattro contro quattro con due palloni ok quindi parto nello stesso modo sono partito prima devi mettere pressione devi mettere pressione lui deve arrivare a prendere la palla boom ok fate quello che volete in difesa non mi interessa io devo capire e leggere uno spazio me lo chiude e tu devi andare a giocare di là tu con chi giochi giochi con me allora vieni a giocare con me tu adesso con chi giochi puoi giocare con lui oppure se ho passato la palla con chi puoi giocare con lui e io posso giocare con lui benissimo dovete arrivare a fare canestro non mi interessa quello che tirate fuori ok vi do solo due indicazioni giocare sulla linea dei quattro punti ok in difesa potete fare quello che volete va bene leggere gli spazi io accetto le mani addosso quindi mettere pressione intensità ci siamo sforzatevi sforzatevi di guardare quindi giochiamo quattro contro quattro con due palloni andiamo via bravi ancora andiamo ancora dai bene bene vi ricordo vi ricordo allora anche se non si poteva quando allenavo qua però qualche nastro qualche cerotto l'ho messo lo stesso per terra non vorrei arrivare a mettervi giù la linea dei quattro punti immaginate di giocare sulla linea dei quattro punti ok adesso ti do ho una possibilità in più puoi partire verso di lui ma puoi partire verso di lui verso quell'angolo o verso quell'angolo attenzione se lui parti di qua tu puoi giocare già perché ricordati che lui ti può passare anche la palla lo ricordi? lui ti può anche passare la palla se la palla viene di qua cosa fa la difesa? deve lavorare ok quindi capire due solelli di passaggio ci siamo? andiamo vai pressione metti pressione bravo bene gioca gioca lì bene stop attenzione prendi la palla come ti chiami? Luigi bene hai giocato sulla linea dei quattro punti? no tu hai fatto una buonissima conclusione bravo ma tu non puoi andare in questo spazio tu dovresti essere in questo spazio giusto? perché lui sta andando a tirare e hai tirato e hai fatto canestro o sbaglio? no? tu non puoi avere schiacciato questa situazione qua perché dobbiamo imparare a giocare larghi riproviamo sempre i bianchi in attacco capito? Luigi giochiamo larghi metti più le mani addosso metti le mani addosso diamo metti pressione metti pressione toccalo 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 bravo 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 ancora perché siamo tutti e due a concludere dentro l'area? secondo te? ancora eh? e perché succede che tagliate insieme? perché non guardate allora dovete guardare e se c'è uno spazio occupato i casi sono due o gli vai in groppa ok? quindi prova andargli in groppa no prova prova va in groppa non ce la fai quindi non puoi andare a occupare lo spazio di un altro giusto? benissimo devi cambiare direzione devi liberare subito quello spazio lì e aprirlo ok? apriamo gli spazi andiamo via lei gioca vieni largo stai largo bravo via ecco che arriva bravo gioca su lui subito non c'è via non c'è bravo guardalo lì bravo gioca gioca cambio palla rossa è certo abbiamo detto che giochiamo quattro contro quattro con due palloni quindi dobbiamo fare due canestre andiamo via bravo eccolo lì largo prendi spazio largo prendi spazio bravo su vai su larghi larghi quattro metri quattro punti stop palla bianca finché non facciamo due canestri andiamo ragazzi quattro punti linea dei quattro punti attenzione vi faccio vedere una cosa vai in palleggio vai in palleggio benissimo cosa fa la difesa benissimo cosa fa la difesa benissimo ok adesso la palla la palla falla rotolare quando te lo dico io la fai rotolare dall'altra parte quando te lo dico io ok vedi dove è lui in difesa vedi cosa vedi tra te e lui no tra te e lui cosa vedi non adesso la palla tra te e lui hai detto giusto vedi spazio non tra te e lui tra te e lui cosa vedi spazio ok se la palla viene qua questo spazio deve essere occupato quindi prova a occupare questo spazio quindi mentre la palla vola prova a occupare questo spazio qua ok ci proviamo benissimo adesso faccio una domanda ai vostri allenatori quelli che hanno fatto il corso allenatori con me non rispondono ok la domanda è questa chi ha l'iniziativa su un campo di paracanestro tutti impossibili chi ha iniziativa? chi ha un evidente vantaggio? sì più specifico più specifico secondo me l'iniziativa del gioco la prende chi occupa uno spazio prima meglio uno spazio vantaggioso quindi mettiti là la palla ruota no rotola pia ridaglio e mi hai giocato a bocce piano bene mentre la palla va in questa posizione qua c'è uno spazio se lui prende questo spazio prima di me lui ha preso iniziativa e me l'ha tolta è chiaro il concetto? se invece io occupo prima questo spazio io ho preso iniziativa e ho preso un vantaggio e ho mantenuto un vantaggio quindi chi è che prende l'iniziativa del gioco chi occupa prima uno spazio vantaggioso ci siamo? quindi adesso proviamo a staccare la difesa vai forte di là bene passaggio ok conquista quello spazio lì e rubalo ci siamo? non lo devo far raffinare bravo no stiamo via vai lì subito lì forte eboli bravo benissimo ancora ancora perché dobbiamo buttarla via? ancora quando palleggi devi guardare ma non devi passare la per forza se gliela passi lui deve essere bravo a rubare quello spazio ok? se no giochi con lui impariamo a giocare l'aria non chiudiamo il palleggio se non c'è una chiara idea di chi passare la palla oppure di penetrazione ci siamo? andiamo vai metti le mani addosso pressione pressione bravo lì benissimo vai vai bravo bravo apri gli spazi vieni apri lo spazio bene benissimo attaccali bravo vai bravo benissimo stop due canestre ok seduti bravi poi dopo posso lavorare sul fondamentale di rubare lo spazio però se gli do delle idee continui di gioco ok e a me capita di adesso è un po' che non lo faccio con i 17 perché stiamo facendo molto lavoro individuale ma lavorare in questo modo e costringere a lavorare in questo modo quando poi vanno con un pallone solo viaggiano viaggiano è chiaro che torno a quello che ho detto prima ci vuole tempo tempo e devo anche saper accettare gli errori che non è la cosa più facile ok quindi adesso proviamo a giocare con un pallone solo ok 4 contro 4 andiamo 4 bianchi in attacco 4 rossi in difesa un solo pallone ok partiamo come siamo partiti adesso dai veloci dai veloci andiamo senza palla non puoi giocare benissimo mani addosso parti con le mani addosso parti con le mani addosso adesso decidi tu puoi attaccare anche uno contro uno ok pronto mani addosso puoi attaccare uno contro uno puoi collaborare con lui puoi andare a far passaggio consegnato o se lui si smarca via passaggio se lui si è smarcato via passaggio posso tagliare rimpiazzare o se vedi che io sto tagliando ma lui occupa lo spazio via dall'altra parte e tu veloci prende la mia posizione ok non lasciate mai libere mai libere le posizioni rimpiazzatele sempre ma non sovrapponetele ok meno palleggi possibili meno palleggi possibili e lavoriamo tanto senza palla mani addosso andiamo via guarda gli angoli bravo guarda l'angolo bene guardo lì via c'è già un no no c'è già un tuo compagno ancora c'è già un tuo compagno stai giocando lì giusto quindi quindi dove vai mettiti là con la palla dove eri tu gli hai passato la palla dove è giusto prendi posizione come stavi prendendo posizione nome Leonardo sto prendendo lì che senso andare lì allora io cosa devo fare lui ha fatto un taglio vai fai un taglio sei arrivato lì che cosa ti accorgi quindi gli vai in groppa no quindi cosa ti accorgi tu e quindi tu devi via via veloce benissimo adesso lui ha preso la palla mentre prendi la palla cosa abbiamo detto che devi fare bene quindi mentre la prendi guarda di là e lui cosa fa boom guarda che c'è già il passaggio hai capito ci siamo dai pronti andiamo vai mani addosso via bene bravo vieni guarda lì bravo andiamo guarda che c'è un vantaggio bravo attaccali stop perché non hai passato la palla fuori fai di penetrazione vai dove eri Luigi giusto vai dove vai tu dove eri benissimo cosa vedi ma tu l'hai vista visto questa cosa qua perché non l'hai vista perché non guardi giusto e io ti ho detto di guardare sempre l'angolo opposto quindi se io sto attaccando qua e guardo l'angolo opposto invece che guardare per terra lui lo vedo e la palla va lì e lui tira ok ancora andiamo testa alta vai bravo la posizione è libera salta fuori salta fuori Leonardo salta fuori bravo gioca passaggio no palleggio passaggio no palleggio ancora palleggiamo sempre appena riceviamo ancora no palleggi a caso andiamo benissimo salta fuori Leo non hai ricevuto salta fuori no palleggio bravo 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 bravissimo bravo rossi andiamo pronti allora riduciamo anche i palleggi all'inizio per cui iniziare con un passaggio ad ogni ricezione ad ogni ricezione avete al massimo due palleggi che potete utilizzare o per attaccare o per adeguare una posizione ma la palla deve viaggiare ok? andiamo, via, pressione, mangi addosso andiamo, lì, bravo taglialo lì, guardalo via, via passaggio subito, via taglio lì via taglia forte bravo, guardalo lì no, stop, stop, perché? non ditemi che non hai guardato la cosa vieni qua, quando hai ricevuto la palla cosa hai visto? benissimo, ma guarda cosa aveva lui vai lì, mettiti lì, come ti chiami? Leonardo anche tu Leonardo, è una congiura bene cos'ha? qua cos'è? no, ascolta quelle parole lì guarda ha un vantaggio, perché? no allora come faccio a capire se un mio compagno ha un vantaggio qua dentro? gli guardi i piedi gli guardi i piedi se hai i piedi davanti alla difesa ha un vantaggio per cui gliela do quindi non c'è nessun palleggio passaggio e lui fa il canestro facile avete costruito una bella cosa solo perché tu vuoi palleggiare e non vuoi guardare dentro il tuo compagno e mentre invece avresti dovuto mentre ricevevi la palla dovevi già vederlo e fare questo perché se segui quello che ti dico che mentre ricevo metti pressione mentre ricevo guardo boom la palla gli arriva subito senza metterla a terra ancora andiamo bravo bravo c'è già uno spazio occupato pazienza via gioca gioca fuori bravi andiamo ancora bianca andiamo metti un quinto giocatore bianco un quinto giocatore rosso parti dove vuoi parti lì parti largo ci siamo? pronta a anticipare pressione mani addosso andiamo via sali Leo sali forte sali fuori sali fuori Leo rossa troppi palleggi andiamo troppi palleggi e soprattutto giocate troppo stretti quattro punti andiamo vieni salta fuori andiamo passaggio via taglio lì bravo stop vi va in groppa ma tu hai visto che c'era Leonardo lì dentro sì e ci sei andato sopra eh qui sei convinto no sento me che avevo sbagliato cioè lo so che ho sbagliato e allora se ti rendi conto che c'è lui cosa faccio? esco cambio direzione vado in un altro spazio andiamo bravo via non palleggiare subito rimaltamento stop stop ma perché palleggi? ma perché palleggi? cazzo a te piace il palleggio? ma scusa ma che te ma porca miseria ma vuoi cercare l'uomo in alto devi ricevere la palla guardare dall'altra parte passaggio lì gliela da lui se chiedo al tuo allenatore Bruno gli dico amante del palleggio? non solo lui andiamo via bravo salta fuori subito ribaltamento lì bravo guardalo lì io taglio lì persa andiamo sprecato un'occasione andiamo passarla prima e facciamo canestro pronti? pronti? via gioco andiamo via ribaltamento subito ribaltamento bravo va bene brava rossa andiamo ragazzi proviamo a giocare più larghi più larghi andiamo via andiamo gioco bene bianca andiamo pronti? via a far canestro chiudiamo con un canestro via andiamo stop perché leonardo posso farti una domanda perché stai sempre lì? e perché si segna solo da lì? e non puoi magari uscire prendere la palla guarda se c'è un tiro ribaltare poi eventualmente ritagliare dai proviamo pronto? pronto? io gli passo la palla esci Leo diamo salta fuori vai via crea spazio bravo basta palleggi basta palleggi ribalta subito lì tiro va bene rossa andiamo vediamo se riusciamo a fare un canestro dai più pressione andiamo bravo bravo ok stop bravissima basta grazie bravi 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 davvero ecco ecco io lavoro in questo modo ma penso che Stefano lo sappia e mi piace vedere che la palla viaggi più che la palla palleggi 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 e quindi secondo me all'interno di un settore giovanile ci deve essere un percorso che parta da under 13 e arrivi poi il più in alto possibile mantenendo coerenza e insegnando a giocare guardando poi è chiaro ci sarà il livello di ogni giocatore però secondo me questo è quanto e devo portare i giocatori a muoversi nel mentre perché se no ormai diventa troppo tardi diventa troppo tardi ho fatto un torneo con i 17 contro a Forlì un po' fa dove c'era la squadra di Gialgiri Skaunas ed era incredibile perché erano giocatori fortissimi giocatori fortissimi ma penso che ad azione a loro azione contavo al massimo cinque palleggi cioè le loro azioni offensive avevano al massimo cinque palleggi compresi le giocate sui piccarot cioè la palla viaggiava in un modo pazzesco e i giocatori lavoravano senza palla continuamente in un modo pazzesco e parlando con il loro allenatore mi diceva che è proprio una loro cosa penso che ci hai giocato anche tu contro di loro e penso di non dire una castroneria che giocano in questo modo e l'altra caratteristica dove riconosci per esempio un giocatore che esce da Kaunas che ogni volta che vanno a ostacolare un tiro dentro l'area loro vanno sempre con due braccia belle alte così ed è una loro proprio caratteristica e niente quindi ripeto a me piace questa pallacanesto piace sviluppare questo chiaramente all'interno dello sviluppo di fondamentali individuali e tutto quanto però saper palleggiare quando palleggiare saper passare quando passare e saper giocare senza palla perché il gioco senza palla che voi pensate che il gioco con la palla sia quello più importante invece il gioco senza palla è quello che è più importante perché soprattutto nella pallacanesto di oggi il giocare senza palla è troppo importante troppo importante per poter prendere dei vantaggi senza il gioco senza palla non prendi nessun tipo di vantaggio o lo prendi in modo difficile l'esempio di prima di come lavori a occupare lo spazio ecco anche questo concetto di trasmettere loro prendi l'iniziativa del gioco gli rimani in testa perché chi prende l'iniziativa chi occupa prima uno spazio quindi se in difesa vuoi prendere l'iniziativa del gioco devi occupare lo spazio per cui vieni Nicolò situazione di post basso per esempio io insegno che nel momento in cui viaggia la palla io devo andare a recuperare in questa situazione qua per occupare lo spazio perché arrivare dietro lui la riceve andare davanti ormai il giorno d'oggi boom subito disponda e mi fottono quindi andare a occupare lo spazio come? vado a spingerlo in questo modo e a occupare lo spazio così sono anche pronto eventualmente a intervenire su eventuali penetrazioni difensive a offensivo devo rubarlo io quello spazio quindi proibire all'attaccante di arrivare ad anticiparlo e quindi questo concetto guardo scelgo faccio e prendi iniziativa occupando prima lo spazio vantaggioso è un messaggio che io continuo a dare dai piccoli quando alleni piccoli ai grandi e continuo ogni allenamento ogni allenamento e ogni situazione di partita e situazione di partita parlo di queste cose nelle ultime partite per esempio contro Treviso e contro Treviglio a me in 2017 il discorso per partita è stato lavoriamo forte pressione sulla palla cerchiamo di negare le recezioni facili ok anche perché dire a un giocatore oggi il tuo avversario non deve ricevere la palla secondo me con la debolezza che c'è oggi nei ragazzi nel momento in cui l'avversario la prende già innesca una frustrazione nei ragazzi quindi rende le recezioni difficili e già quello è un buon lavoro ok quindi dal punto di vista difensivo e la terza cosa che ho detto è comunicate parlate e risolvete i problemi in attacco divertitevi questi sono state i discorsi pre partita prima di entrare in campo poi è chiaro che in partita qualcosa di offensivo poi magari lo sistemi e gli dici due cose da fare è normale ma loro cioè questi sono stati veramente i discorsi pre partita per loro cioè in attacco divertitevi ci abbiamo lavorato in allenamento continuamente su questa cosa qua prendere iniziativa del gioco guardo scelgo faccio per il resto via il risultato è che abbiamo perso 16 palle eh pazienza cercheremo di migliorare eh questa situazione però io vado avanti su su questo non so se ho chiarito o se c'è qualcuno che mi deve fare qualche domanda se no penso che un paio d'ore sia giusto ci siamo se qualcuno ha qualche domanda dimmi io non chiedo sempre di fare necessariamente qualcosa secondo me una volta che passo la palla posso anche star fermo intanto assolutamente perché vedevo loro ma è un errore che incappa appunto i ragazzini più piccoli che si passano la palla e hanno appena esempio per fare forse qualcosa e poi cosa succede che sono due in aria nel stesso tempo perché loro devono fare qualcosa io penso non devi credere di fare qualcosa ma infatti ha detto all'inizio se ti ricordi ho detto devo anche sapere star fermo ok ma per arrivare lì ma per arrivare lì c'è sempre il solito processo ho guardato che lo spazio vantaggioso era di star fermo quindi ho passato la palla sto fermo tiro faccio un esempio mi servono due giocatori in difesa e due giocatori in attacco ok allora metti un attaccante in angolo e un attaccante qua un difensore qui in mezzo ok e un difensore qui allora dove io passo la palla tu esci ok quindi se passo la palla esci qua e tu esci dall'altra parte ok se io passo la palla là tu esci e tu vai ci siamo? pronti? ma recuperare velocissimi eh velocissimi e dovete arrivare a toccare l'avversario vai andiamo a toccare l'avversario bene tu puoi anche passarglielo eh pronti? questa per esempio è una situazione dove il giocatore sta fermo giusto? benissimo però attenzione le difese stanno diventando sempre più brave ok e spesso e volentieri questa extra pass si lo fai ma ti negano il tiro ok e quindi vai lui recupera mentre sta arrivando pum no no taglio forte questa secondo me è una cosa che fa male questa è una cosa che fa male quindi eh di questa situazione quante se ne vedono di quante se ne sono viste ma io guardando le partite eh sempre famoso fattore Messina Milano spesso e volentieri è brava a recuperare su queste situazioni e ti nega il tiro o perlomeno ti fa fare un tiro contestato ok se tu guardi adesso qualche squadra avversaria comincia boom taglio ogni difesa ok ma leggono anche la difesa del tipo il difensore recupera in questo modo taglio sulla linea di fondo il difensore recupera in questo modo taglio davanti no quindi è vero il discorso a volte stare fermo però mi piace più che sia una lettura del giocatore più che una situazione no ma infatti era intanto come lettura perché spesso c'era il ragazzo che mi ricordo un colore sì 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 Leonardo perché almeno non sbagliamo Leonardo un Leonardo a caso non so ci siete solo in due Leonardo guardi vabbè già vabbè già ricordati che è un processo è un processo che devi arrivare no perché per esempio una volta si diceva no aiuto dal lato forte no poi è arrivato lo stunt e quindi ok quindi secondo me la palacanestra è continua evoluzione continui adattamenti ricordati quello che ho detto all'inizio è instaurare un seme no un percorso da under 13 ad under 19 se se siamo tutti bravi e e i ragazzi lavorano in una come si chiama in una coerenza di progressione no nel proprio settore giovanile secondo me arrivano in fondo che poi capiscono che se devono tagliare oppure devono spaziarsi oppure devono togliersi per liberare uno spazio però già prima per esempio non mi ricordo più chi lui forse sì nome Marco ok gli ho detto che cosa vedevi e fa ho visto un compagno che stava arrivando e io dovevo togliermi per concedergli uno spazio se già arrivano a questo è già una grande cosa ed è una bella cosa ok perché poi ricordati che tu allenatore del settore giovanile ci metti il seme ma poi chi raccoglierà il frutto sarà qualcun altro e non tu a meno questo è quello che penso qui altre ci siamo bene allora un applauso a loro che sono stati bravissimi e vi posso garantire che giocare 4 contro 4 con due palloni non è facile non è facile non è facile per esempio sfido la prima squadra a dire prendi dai giocate con due palloni non è facile no no certo per esempio un'altra cosa sempre dal confronto con Marco Crespi su quello che sta diventando la pallacanestro taglia fuori taglia fuori però ha fatto un articolo con suo scritto riposi in pace taglia fuori dal pallacanestro di oggi il taglia fuori sono variate le situazioni di taglia fuori ok se io guardo alto livello sono più situazioni di verticalità o di taglia fuori di verticalità ok benissimo però se io uso lo stesso concetto di prima chi prende iniziativa? chi occupa uno spazio prima per cui parte il tiro se io invece che guardare la palla vado a occupare uno spazio e volo no e vado a occupare uno spazio e faccia alte molto probabilmente mi si crea un impatto con uno che sta andando a rimbalzo ok ma che non è il classico taglia fuori che una volta non c'è più il tempo non andare a occupare uno spazio no o per esempio un'altra cosa che ho imparato da Marco Ramondino mi servono due giocatori tre giocatori ok allora mettiamo qui giocatore metti un altro qui che fa il blocco tre difensori immagina di fare stai giocando la finale di Eurolega e fai un pick and roll vai lì fuori anzi vieni tu qua a fare blocco benissimo vieni vieni Leo qua in difesa mettiti in difesa su di lui e metti in difesa allora classica situazione di pick and roll lui che attacca immagina no no contieni 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 e tu rolli no no stai dietro di lui ok tu rolli ok tu esci e tu stai difendendo no benissimo vai pian pianino porta avanti la palla vai lì dietro benissimo qua mettiamo che l'hai fermato bene allora su questa situazione su questa situazione dove qua il giocatore fa arresto e tiro perché qua stiamo contenendo bassi quindi un drop ok lui fa arresto e tiro e lui va a rimbalzo concetto è occupare uno spazio prendendo iniziativa quindi vado corro boom forte Marco per esempio questo giocatore non gli dice di far taglia fuori su di lui ma gli dice tu vai a rimbalzo tu parti il tiro quindi occupi lo spazio proprio girato di spalle con sulle braccia sulle braccia su perché devi prendere il rimbalzo gli dice di andare a fare un sandwich su di lui no? e prende il rimbalzo da dietro quindi un modo diverso per esempio di andare a rimbalzo però uso sempre la stessa filosofia occupare uno spazio prima quindi prendere l'iniziativa del gioco grazie seduti per esempio no? e quindi dal confronto con altri allenatori nascono queste cose e poi ci rifletti ripeto se pensi una volta no aiuto dal lato forte e adesso stand chiaro che lo stand è sempre lettura dello spazio e del tempo perché se io faccio una penetrazione qua e tu mi fai stand qua prendi il tiro fa bene sta fermo come lavorare sui fondamentali tipo metti che la palla è in punta io mi devo smarcare vado dritto o prendo un contatto e dipende vieni 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 un attimo sì sì immagina Nicolò lì con la palla ok se tu sei in posizione corretta difensiva no così è troppo staccato vieni chiuditi leggermente benissimo e io sprinto in questo modo secondo me tu hai la strada più breve arrivi qua e mi anticipi giusto? ma se lui è leggermente più schiacciato allora sì che io sprinto perché lui ha la strada più lunga per arrivare allora forse dovrò se lui è più vicino forse dovrò prendere un contatto perché adesso abbiamo tutti e due la stessa strada da fare e allora io sono più veloce e prendo la palla e quindi questa cosa qua poi ci lavori e quindi quando vai a lavorare sul movimento anche di taglio un rimpiazzo è diverso però è tutto mettere insieme è comporre un mosaico e quindi va bene? io altre cose non so se è stato utile oppure no va bene?